Siamo con Giacomo Carelli, amministrato delegato di FCA Bank al salone LIS 2018 e chiediamo a lui come mai siete qui. Ma innanzitutto è la prima volta in Italia che partecipiamo a un salone dell'IS, è la prima volta di un salone dell'IS e quindi eravamo molto molto interessati. Noi offriamo servizi di lisi in finanziario, offriamo servizi di noleggio, siamo tra i principali operatori in Italia e quindi volevamo da un lato sentire cosa succede sul mercato e dall'altro raccontare la nostra storia. L'abbiamo fatto, abbiamo raccontato la storia di FCA Bank, abbiamo raccontato la storia del leasing di FCA Bank e anche la storia del noleggio di LISIS che è un po' il nostro cavallo di battaglia in questo paese negli ultimi anni. Noi operiamo non solo in Italia ma in 18 paesi europei. In Italia siamo stati tra i primi a lanciare il leasing a privati e anche da un anno il noleggio a privati che ha avuto un enorme successo. Sì, questo lo vediamo anche sui giornali e sull'investimento pubblicitario. La domanda che le faccio è invece relativamente all'andamento del mercato perché sicuramente il vostro è un punto di vista privilegiato, FCA Bank è protagonista di questo mercato in maniera significativa ma il mercato del leasing ha ancora margini di crescita, l'ha agganciata bene o ha raggiunto l'ACME con le innovazioni che ci sono state, normative, la Sabatini, il contratto di leasing codificato eccetera? No, senz'altro il noleggio è cresciuto molto e il leasing sono cresciuti moltissimo negli ultimi anni grazie alle cose che lei ha appena detto. C'è un trend di settore, parlo in questo momento del settore automobilistico, che vede il cliente preferire l'utilizzo della vettura alla proprietà e quindi nelle nostre stime crediamo, siamo convinti che il settore continuerà a crescere sia lato onoreggio. Bene, un grande economista che era Jeremy Rifkin diceva che questa è l'era dell'accesso, quindi siamo passati dal concetto di proprietà nei sistemi capitalistici avanzati a un sistema dove il valore è creato dall'accesso, quindi sicuramente il noleggio interpreta l'esigenza del capitalismo moderno, ma tutte quelle società della filiera del mondo del leasing, soprattutto evidentemente quelle italiane che fanno i servizi accessori, dalla gestione alle informazioni, al recupero dei beni, ma anche al recupero del credito, che ruolo hanno in questo scenario di cambiamento? È un tessuto imprenditoriale che riesce a star dietro a una grande realtà come la vostra oppure ci sono anche in quel settore delle multinazionali che magari vengono dall'estero e diventano più facilmente partner di gruppi strutturati come il vostro, non solo in Italia ma anche in altri paesi. Noi lavoriamo con entrambe le tipologie, abbiamo ottime collaborazioni con tantissime piccole e medie realtà italiane, anche con società internazionali. In questo momento il mercato della filiera sta reagendo benissimo, sotto tutti i punti di vista. La parola d'ordine oggi è nuova mobilità, le parole d'ordine sono nuova mobilità e digitalizzazione. E noi stiamo vedendo che i nostri partner, i nostri fornitori stanno reagendo molto bene, ci stanno offrendo dei servizi altamente innovativi, molte volte sviluppati proprio in Italia e questo ci aiuta a crescere senz'altro. Bene, quindi una parola di speranza per il mondo imprenditoriale. L'ultima cosa, abbiamo parlato sicuramente dell'automotive, ci sono anche altri comparti importanti nel mondo del leasing e del noleggio, pensiamo alla nautica, pensiamo all'immobiliare, pensiamo alla pubblica amministrazione. Ecco, lei vede anche su questi canali una possibilità di crescita oppure le usanze, ad esempio quelle della pubblica amministrazione, ancora non consentono di capire alla pubblica amministrazione questo prodotto e questi servizi. Io direi che la pubblica amministrazione, in questo momento parlo per l'area automotive, sta noleggiando vetture, quindi sono assolutamente sul pezzo e già da tempo noi collaboriamo con gare pubbliche, ovviamente con la pubblica amministrazione per il noleggio di diverse vetture e anche veicoli commerciali. Per il settore non automotive, da quello che ho potuto sentire in questa giornata, mi verrebbe da dire che le aspettative sono comunque positive. Bene, grazie e buon lavoro. Molte grazie. Grazie.